Ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Quando non riesci a costruire il gioco nella tua metà campo e perdi tanti palloni, perché il pressing dei centrocampisti e degli attaccanti avversari è efficace come è stato oggi, è difficile riuscire a vincere la partita, anzi, spesso la perdi. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. 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 Grazie.